Ciao a tutti gli amici di 3Running.it, oggi parliamo di ASICS DynaFlight 4, una scarpa che è molto appariscente in questa colorazione ma tuttavia ha un'impostazione molto tradizionale, una scarpa con un differenziale tacco punta di 8 mm, un'intersuola fatta con materiale Flight Foam, un materiale molto leggero ma che garantisce un'ottima reattività e una grande capacità di accompagnare il passo in maniera reattiva e confortevole. Un comfort poi che è assicurato anche dall'inserto in gel posto sotto al tallone che fornisce quindi un elevato grado di ammortizzazione insospettabile in una scarpa che pesa intorno ai 200 grammi e che è progettata per offrire il massimo della performance. Oltre alla comodità nel fatto di ammortizzazione stupisce anche la comodità della tomaia e della calzata, una tomaia ben conformata con un tessuto molto molto confortevole anche al tatto internamente e dotata di abbondanti abbondanti imbottiture nella zona del contraforte tallonare che è molto rigido, molto stabile ma che calza in maniera assolutamente confortevole. Una scarpa quindi con cui poter correre molto veloci ma anche in maniera più tranquilla su medie e lunghe distanze per atleti ben strutturati o anche meno forti che comunque vogliono affrontare al massimo delle proprie possibilità e sentirsi veloci proprio come dice la soletta interna di questa scarpa feel fast ecco questa scarpa è veloce e ti fa sentire comodamente veloce ASICS DynaFlight 4